ciao 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 amici come avete visto la prima recensione oggi sono arrivate e abbiamo aperto insieme a raffa un po di figure di casa good smile company queste sono linee pop up e sono delle figure entry level diciamo di basso costo però la qualità non è niente male le consiglio perché sono veramente belle 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 abbiamo visto prima nella prima recensione fatta quest'oggi mei odas dai sette peccati capitali continuiamo quindi in tema sette peccati capitali vediamo ban 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 grandissimo personaggio è praticamente il miglior amico di mei odas che se ne danno di santa ragione si melano più non posso ragazzi dall'inizio dell'anime fino alla fine si melano più non posso ma non trovo guardate che figuraccia più coltello non so che fino al fatto proviamo aprire la scatola così col cacciavite col cacciavite ce la faremo non ce la faremo ce la facciamo ce la facciamo tanto va bene ragazzi queste figure poi sono veloci nelle recensioni perché una volta che l'abbiamo viste bene bene nel dettaglio abbiamo viste girare non potendo cambiare la posa praticamente si fanno in fretta come dico sempre allora vedete questo il packaging più o meno è sempre uguale questa della linea pop up parade di goose my company le basette la stessa cosa cambia l'aggancio il colore ma poi la forma più o meno è sempre quella adesso andiamo a vederla comunque bene bene figure e basetta nel del taglio da vicino da vicino da vicino se non l'avete ancora fatto mi raccomando iscrivetevi al canale a voi non costa nulla e per me fondamentale quello eccolo il nostro ban andiamo a levare il solito scotch rompiscato che mettono dappertutto allora allora anche qua c'è una storia bellissima d'amore tra ban ed elaine la sorella di king allora quindi anche lui in questo i sette peccati capitali da una storia d'amore incredibile con elaine come già detto questa è la basetta che come sempre vedete generalmente però sto vedendo che se anche in alcune cambia il colore la forma è sempre uguale secondo me in alcune lasciano uguale anche l'aggancio del della figo lui ovviamente come nell'anime è molto più alto del meglio das riguardate gli hanno fatto questa giacchetta che al tatto è una cosa lucida bella 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 allora devo vedere il dettaglio che sapete che è una cosa che mi piace particolarmente non mi piace questa riga ragazzi sulla basetta di giuntura però fondamentalmente c'è queste pop up non possiamo dire niente guardate che disegno che scult sono quelle figure entry level entry level però che ci lasciano soddisfatte guardate anche la colorazione dei bottoni del suo vestito che non è sbavata guardate vedete non ci sono sbavature qua c'è un'imperfezione sul braccio vediamo qua mi ha beccato un puntino qua sul braccio vedete però sono come già detto entry level non possiamo penso pretendere guardate l'effetto del pantalone lucido tirato così come anche la giacchetta proprio un bell'effetto lui anche secondo me è realizzato bene 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 io li sto facendo tutti sicuramente li prenderò tutti i sette peccati capitali perché ho adorato il l'anime mi è piaciuto veramente tanto anche se molto recente mi è piaciuto veramente tanto ragazzi guardate comunque è fatto bene ban promosso anche lui come tutta questa linea pop up dal basso costo dai vediamolo girare man ban è fatto bene anche lui ragazzi è fatto veramente bene se prendiamo le figure dei sette peccati capitali sicuramente ban non può mancare personaggio di riferimento della serie ragazzi miglior amico del protagonista meglio odas veramente personaggio unico fatto veramente creato nell'anime veramente bene devo dire che lui tutto sommato tutto sommato sono riusciti a ricreare questa lucentezza ragazzi della nonostante sia una figura guardate la lucentezza che gli hanno ricreato nella sua giacchetta e sto guardando anche adesso quando gira che non ha praticamente pressoché nessuno quasi nonostante ci siano tutte queste borchie vedete sulle figure non di alta qualità la sbavatura è all'ordine del giorno in realtà io sto guardando che lui è fatto veramente bene ci sono pochissimi punti dove noi andiamo a vedere una piccola imperfezione per quello dico questa linea pop up che fondamentalmente quello che sto dicendo sempre è una linea entry livelli perché non si può paragonare a figure di altri livelli di altri costi però tutto sommato fa una bellissima figura cioè non sarebbe quasi da dire figure entry live perché sono belle sono veramente belle costano veramente poco e quindi tutte queste quale sto sempre consigliando ragazzi perché secondo me non sono niente niente male fanno la veramente la loro bella scenetta e metriano che cosa potevano fare una basetta per tutti i personaggi diversi col nome del personaggio almeno quello in una figure da 40 euro 40 euro potevano almeno integrarlo la basetta col nome del personaggio invece le basette purtroppo sono tutte uguali cambia solo la colorazione la gaccia e andiamo a concludere recensione super veloce anche per questo ban prodotto da goose my company nella linea pop up parade è veramente bello anche anche lui fatto veramente bene poche le imperfezioni di andato questa bella lucidità al vestito come già detto l'unica cosa che in questa linea pop up come avevo già detto anche prima potevano almeno integrare la basetta col nome del personaggio perché le basette sono tutte uguali ed è l'unica cosa che mi dà un po noia però effettivamente le figure non si può dire niente ragazzi sono veramente veramente belle sono entry level costano poco e che diranno tantissime anche sfumature vedete del colore mi piacciono particolarmente e specialmente costano soprattutto è molto importante costano poco saluto dal carletto come dico sempre se la recensione vi è piaciuta non esitate mettere un like facciamone andare questi pollici attivate la campanellina in alto così vi arrivano tutte le notifiche ma soprattutto perché a voi non costa nulla e per me è veramente fondamentale mi date quella forza in più iscrivetevi al canale iscrivetevi al mio canale ciao ciao un saluto a carletto andiamo avanti che ce n'è di roba da recensire alla prossima recensione guardate bannava di qua di là va di qua di là tanto lui è immortale lui immortale bom 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 facciamo sbattergli anche la testa contro il muro tanto non muore mortale a vi fa la linguaccia ciao 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 ciao